Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Teramo critica fortemente l'impostazione del bilancio redatto dal sindaco Brucchi, definito molto poco bilanciato. Secondo i pentastellati, da una parte il Comune spenderebbe troppo dove invece potrebbe risparmiare e il riferimento è per alcuni impianti sportivi come il Parasport di San Nicolò, dall'altra si pensa ad aumentare le tasse ai cittadini sui rifiuti. Noi denunciamo una situazione indecente in quanto nonostante il parere dei revisori che abbia detto al Comune di dover contrarre quelle spese superflue perché ormai il bilancio è in sostanziale default, ancora ad oggi abbiamo dopo una gara di esternalizzazione del Palas San Nicolò una società che invece non paga una lira al Comune di Teramo. Ed è sempre il Comune di Teramo a dover sopportare tutte le utenze, quindi acqua, luce e gas, di questo stabilimento. Questa è una cosa inaccettabile se pensiamo che dall'altra parte invece il Comune vuole aumentare del 4% la tariffa sui rifiuti e non ha portato negli ultimi anni una sola misura nell'interesse dei cittadini terramani. Critiche pesanti arrivano dai 5 Stelle anche sull'attuale fase politica che l'amministrazione comunale di Teramo sta attraversando. Come vede il futuro di questa amministrazione? Ormai il futuro è segnato, ormai il futuro è nero per questa amministrazione, non c'è più una giunta in grado di governare in quanto oggi si sono dimessi altri tre assessori, non c'è più una maggioranza e abbiamo un sindaco che ha paura dell'avvento di questo commissario perché sostanzialmente svelerebbe tutti i debiti che ci hanno lasciato e la scellerata gestione che li vedrà protagonisti sia il sindaco Brucchi ed anche il consigliere Paolo Gatti che è titolare di quel gruppo di dissidenti che oggi non si presentano più in Consiglio Comunale. Voi saresti disposti ad un accordo tecnico con loro? Assolutamente no, è da escludere in ogni caso, in quanto noi abbiamo sempre avversato questa amministrazione, abbiamo fatto delle proposte che non sono mai state prese in considerazione, hanno preso in giro noi e i cittadini terramani ed è ora che vadano a casa e che lasciano la parola agli elettori.